Ed eccola qui la nuova Artura, ovvero Art & Future, ma allo stesso tempo anche una McLaren che è stata pensata per essere estremamente sportiva, elegante, ma anche tremendamente tecnologica. Questo perché sotto alle forme che sono tipiche di McLaren, seppur riviste in tutti i dettagli, si nasconde un nuovo powertrain che combina la forza di un nuovo, completamente nuovo, partito dal foglio bianco, motore V6 a V di 120 gradi, quindi un motore estremamente compatto e allo stesso tempo anche molto basso di baricentro, che si combina con una unità elettrica che è montata a sandwich tra motore e cambio, anch'esso completamente nuovo, una trasmissione a 8 marce che rinuncia alla retro perché la fa in elettrico, portando con sé minor peso, maggior scalatura dei rapporti e chiaramente un rapporto in più rispetto al 7 marce precedente. Non ci hanno detto da chi è realizzato, ma posso presupporre che venga sempre realizzato in Italia dalla Graziano. Il motore è sicuramente un'opera d'arte, V6 U di 120 gradi, 90 di corsa, 84 di alisaggio, per cui in corsa lunga, che riesce ad offrire da solo 585 cavalli e 585 newton metro di coppia massima, già a partire da 2200 giri. Un valore molto interessante che chiaramente si combina ai 95 kilowatt e ai 225 newton metro del motore elettrico, che riesce a spingere da solo la macchina fino a 130 chilometri orari, assicurando 30 chilometri di autonomia nella sola modalità elettrica, grazie ad un pacco batteria che è disposto centralmente dietro i sedili con una potenza di 7,4 kilowattora. Questo appunto le permette di avere 30 chilometri di autonomia e soprattutto di riuscire a fornire energia ad un motore che complessivamente aumenta il peso tra batteria, motore e cablaggio, aumenta il peso di 130 chili, ma appunto consente diverse strategie al propulsore, perché è in grado di ospitare ad esempio turbine più generose rispetto al passato, ed è per questo che questo motore ha tanta potenza e tanta coppia, consente di andare a compensare quello che sono le zone buie di erogazione del motore a benzina e consente chiaramente anche di aggiungere prestazione, permettendo alla vettura anche la marcia nella sola modalità elettrica e il contributo quando serve di spinta di questi 95 kilowatt più 220 Nm che non sono niente male, considerando che pesano appena, tra virgolette, 130 chili. I McLaren sono sempre molto attenti a peso, hanno pensato veramente a tutto per quanto riguarda questa vettura che è basata sulla nuova piattaforma MCLA, anche qui si può parlare di piattaforma anche se si viaggia in combinazione tra scocca e motore, ma in questo caso appunto se il motore è completamente nuovo, anche della scocca si può dire che sia un progetto praticamente nato da un foglio bianco, si chiama MCLA, quindi McLaren Composites Lightweight Architecture, pesa pochissimo perché siamo a 88 kg, anzi 82 kg e questo consente di avere appunto minor peso della vettura e soprattutto un vano per andare ad installare la batteria che è qui sotto, proprio per consentire al motore di avere tutta l'autonomia che serve e soprattutto appunto contribuire alle strategie di funzionamento di questo oggetto. Le porte si aprono come al solito a farfalla, ma quello che mi piace in termini di stile di questa vettura è il fatto che come vedete oltre ad essere molto intrigante, molto piacevole da un punto di vista di stile in particolar modo qui nella zona posteriore dove spiccano gli scarichi, guardate che belli che sono molto bello anche l'estrattore dell'aria, ma appunto qui dietro spicca la presenza di questo mega cofanone si vede, super mega cofanone che è realizzato in pezzo unico, anche questo in alluminio va a coprire il motore che purtroppo non si può vedere, questo è un peccato, sempre nel McLaren non si può aprire il cofano va a coprire però appunto attraverso anche questa griglia quel pezzettone di motore che si trova qui sotto e che sfoga l'aria da questi sfoghi appunto che sono posizionati nella zona superiore bellissima e anche da qui dietro perché il calore generato dal motore chiaramente è tanto un motore ultra sofisticato, ha permesso di abbassare il baricentrato della vettura, ha permesso di abbassare il design complessivo della macchina e ha permesso anche di accorciare le dimensioni, visto e considerato che parliamo di un oggetto che è lungo 4 metri e 54 con 2 metri e 64 di passo, per cui una macchina indubbiamente particolare che pesa poco perché pesa 1498 kg din, quindi con tutti i liquidi pieno di benzina ma non il pilota a bordo. Per quanto riguarda lo stile, qui davanti appunto vengono riprese alcuni dei concetti che avevamo già visto anche sulle altre McLaren ma la vettura è di fatto completamente ridisegnata sotto ogni punto di vista ed integra innanzitutto una nuova aerodinamica, qui davanti con uno splitter molto importante, molto bello il sistema di raffreddamento per l'intercooler e chiaramente si fa notare anche il gruppo ottico che è un matrix led ben integrato chiaramente allo stile della macchina. Qui sotto c'è un piccolo bagagliaio che poi cercherò di farvi vedere ma quello che si nota qui davanti è la presenza del sistema di rilevamento della distanza attraverso il radar è molto ben integrato allo stile, al centro troviamo anche la telecamerina anche qui gran lavoro di integrazione delle componenti esterne alla dinamica della vettura all'interno di questa Artura che appunto utilizza il radar di distanza per attivare funzioni di controllo di aiuto alla guida di livello 2, quindi la macchina ha il cruise control adattivo, sta incaraggiata da sola e soprattutto vanta sistemi ADAS che consentono a questa macchina di essere vissuta con più tranquillità tutti i giorni soprattutto in contesti dove questa Artura verrà molto utilizzata perché i McLaren dovete sapere che hanno pensato a questa macchina anche per essere utilizzata tutti i giorni, vogliono che i loro clienti la utilizzino tutti i giorni ed è per questo che è anche una macchina elettrica oltre ad essere una macchina a benzina, questo perché città come Milano città come Londra, città come Parigi favoriscono indubbiamente l'accesso a vetture elettriche o altamente elettrificate quindi le plug in hybrid tra cui c'è anche questa Artura e chiaramente questo è una carta importante nel contesto delle possibili vendite, del successo commerciale di un oggetto come questo, l'ibrido quindi sta diventando importante anche per le macchine da corsa, bella, devo dire molto bella, dovrebbe piacervi chiaramente poi lo stile della McLaren ma l'oggetto è indubbiamente interessante, mi piace perché anche qui dietro i cerchi sono davvero belli da un punto di vista stilistico, sono gommati 295-35-20 in questo caso con declinazione McLaren, Pirelli ha fatto un P0 corsa appositamente sviluppato per questo oggetto che vanta al posteriore una pinza a 4 pistoncini con disco da 380 mm accoppiato ad ulteriore con cerchio da 19 pollici gommata 235-35 che nasconde a fatica direi un disco da 390 mm con pinza a 6 pistoncini bellissimo lo sfogo dell'aria, guardate che bello, qui nella zona laterale molto bella anche la visione che si ha della fiancata da questo punto di vista con questa mega presa d'aria vedete che va ad accompagnare il flusso verso il raffreddamento del motore che viene anche attraverso questa bocchetta degna di nota è sicuramente la presenza di questo arco in pezzo unico da davanti a dietro che dà un bel tocco di stile indubbiamente assieme all'18 concavo lo vedete come è fatto da un bel tocco di stile ed ha una grande idea di raffreddamento a questo oggetto che è stato pensato per essere bello ma anche maledettamente veloce vi faccio vedere per un momento anche come è fatto il bagagliaio 160 litri che appunto possono accompagnare la vita di tutti i giorni presa di corrente e poi chiaramente illuminazione di questo vanno all'interno del quale ci stanno certamente due trolley della cabina più alcuni zaini morbidi bellissimo molto leggero anche il movimento del cofano chiaramente anche questo realizzato in alluminio mi piace moltissimo l'apertura della porta guardate un po che si apre a farfalla con un servomeccanismo che va a sganciare la porta è bella da un punto di vista stilistico anzi sapete cosa faccio apro anche l'altra porta così ve la faccio vedere anche aperta dal vivo in questo amber orange che fa parte dei quattro colori che sono disponibili per questa artura quanto bella è da aperta bellissima che sono il flux green l'amber orange il volcano blu e il plato grey è arrivato il momento però anche di farvela vedere dentro per cui prima di tutto richiudo la porta perché voglio farvi vedere anche come è molto ben integrato il disegno della plancia con il con appunto lo stile dei pannelli porta in cui la croccantezza non esiste perché è veramente molto ben fatta è tutta rivestita in pelle rivestita anche in alcantara questo per questioni di stile ma anche per questioni legate al peso perché l'alcantara pesa meno rispetto alla pelle e al proprio interno come vedete di questo giroporta trova posto un impianto audio della bowers e wilkins non si è risparmiato chiaramente niente del resto queste sono vetture molto particolari in termini di dotazione la scocca è stata pensata per essere più bassa qui nella zona anteriore questo per favorire l'accesso perché comunque rimane un'auto da corsa ma deve essere anche semplice da utilizzare appunto come vi dicevo tutti i giorni allo stesso tempo qui dentro si entra in un mondo abbastanza galeaziano perché abbiamo tutto digitale tutto digitale a parte lo specchietto che mantiene la sua connotazione appunto senza cornice però di specchio vero e questo perché qui dietro comunque rimane un cristallo che consente di vederci molto bene molto bella la plancia rivestita nella parte superiore completamente in alcantara che va ad integrare due bocchette dell'aria e un sistema diffuso per la diffusione dell'aria qui nella zona centrale che va anche a dare un bel tocco di stile e di raffinatezza come vi dicevo c'è una bella integrazione tra quello che è il pannello porta e il montante lo vedete quanto ben integrato anche grazie allo studio del disegno della griglia del twitter e anche devo dire la parte bassa della scocca che rivestita in moquette va ad integrarsi perfettamente chiaramente con la zona inferiore del pannello porta rivestito in pelle bellissimo il display non molto grande nella dimensione ma molto bello come al solito verticale qui nella zona centrale in questo momento sta girando una demo non posso farvi vedere come è fatto il software ma quello che è interessante è la parte del cockpit perché come vedete questa parte alta si muove esattamente come il piantone quindi se voi muovete lo sterzo avanti indietro su e giù si muove anche la strumentazione ed anche il sedile è stato pensato per muoversi a culla fondamentalmente questo per mantenere la posizione della posizione di guida in qualsiasi posizione venga messo appunto il volante quindi di fatto è uno studio ergonomico che è molto ben fatto attraverso queste sedili a guscio che sono siglati mclaren nella parte alta vantano uno stile molto raffinato molto compatto ma allo stesso tempo devo dire molto racing e anche molto elegante molto racing anche questa zona centrale con la selezione della modalità di uso del cambio l'avviamento del motore bella la fibra di carbonio qui al centro molto bella anche la pelle che va a rivestire il tunnel centrale ma quello chiaramente che ci piace è il cockpit con il suo volante anche qui rivestito in alcantara il leveraggio che è un vero bilanciere lo vedete se muovo il meno verso di me si sposta indietro il più posso volendo anche salire di marcia basta spingere in avanti questo per intenderci quindi posso anche salire di marcia spingendo in avanti o scendere di marcia spingendo indietro e posso avere tutte le informazioni che riguardano il comportamento della vettura attraverso questo mega display che è qui davanti molto ben leggibile con una grafica davvero bellissima tra l'altro il motore mi ero dimenticato di dirvi che questo 120 gradi gira fino a 8.500 giri che è un regime veramente molto alto a per un corso a lunga b per un motore turbo compresso quindi anche qui da questo punto di vista in mclaren hanno fatto davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda le impostazioni di guida innanzitutto la modalità d'uso del cambio può essere selezionata anche da qui oltre che dai tasti qui al centro attraverso questo leveraggio lo vedete come è fatto è integrato all'interno della strumentazione anche qui potete andare a scegliere le modalità di guida e altre funzionalità direttamente appunto dalla parte alta della strumentazione molto comodo molto ben fatto altri tasti invece li troviamo qui nella parte sinistra della plancia a completare direi quello che è un quadretto davvero molto ben fatto come vi dicevo ci sono tutti gli adas possibili immaginabili c'è anche un drift control per cui la vettura in grado di controllare l'angolo di imbardata andando ad agire sui sensori di posizione della vettura va bene macchina bellissima il mio tempo con lei purtroppo è terminato ma sono sicuro che la ritroveremo più avanti nel corso del tempo 231 mila euro la vettura è già ordinabile fondamentalmente presso le concessionarie mclaren arriverà sulle strade verrà targata a partire dal terzo trimestre del 2021 se volete vederla invece a toccarla con mano lo potrete fare a partire dal mese di maggio quindi fra uno bar due mesi al massimo presso le concessionarie come questa di milano di mclaren con questo è tutto non rimane che invitare per commentare su youtube su facebook naturalmente su automoto.it bellissima questa mclaren davvero un'opera d'arte dal resto si chiama art in future non a caso ciao e a presto a presto a presto